Hola Tantos Vapers e bentornati all'appartamento all'angolo dello svapo oggi faccio un video velocissimo, attenzione perché cosa sto per dirvi sto per dirvi che stasera arriverà fuori un video particolare vi dico solo che ci saranno i migliori accoppiamenti tra box e atomizzatori quindi datemi una mano anche voi perché non so come mettere il titolo se mi potete dare una mano commentate in questo video il titolo che potrebbe star bene e anche perché voglio dirvi un'altra cosa il sottoscritto, non voglio vantarmi niente però sono contento di queste cose il secondo video che mi succede, il primo è stato quello del peerless dove io ho fatto la recensione, successivamente se non sbaglio uno o due giorni dopo è uscita la recensione del santone dello svapo, il grande dio dello svapo e ho visto che la recensione era molto simile, tra virgolette il riassunto era quello ovviamente lui parla molto con più dati tecnici di me io invece faccio un riassunto, parlo un po' più masticabile per tutti coloro che non se ne intendono poi così tanto e niente, oggi è successo ancora perché se andate a vedere sul canale del santone dello svapo c'è il video recensione del pacamama o il pacamama, come volete chiamarlo che io ho fatto all'incirca due, due mesi fa può essere due o tre mesi fa e la recensione è veramente uguale sono veramente contento di questo e niente, oggi così, un video velocissimo stasera il video uscirà per le 8-8 e mezza quindi datemi una mano immediatamente qui sotto con il titolo secondo voi cosa sta bene e preparatevi per stasera perché ci sarà un gran video ciao ragazzi, a dopo ciao